Tutti allo stadio, l'appello lanciato dai tifosi del Gela attraverso i social network ha una rilevanza importante, diremmo importantissima. Sì, perché domani al Vincenzo Presti la squadra, dal tecnico Toto Bruculeri, ha un'occasione enorme per dire la propria in vetta alla classifica. Il calendario infatti propone lo scontro al vertice tra Dattilo Noir e San Cataldese, le altre due squadre che assieme ai Biancazzurri comandano il girone A del torneo di eccellenza. E il Gela riceverà la visita del Mussomeli, dunque domani pomeriggio potrebbe cambiare lo scenario perché una vittoria dei Gelesi ed una conseguente sconfitta di una delle altre due contendenti porterebbe in cima alla gradatoria solo due delle tre. Se addirittura tra Dattilo Noir e San Cataldese uscisse fuori un pareggio e il Gela, così come ci si augura vincesse, sarebbe il team tanto caro al presidente Angelo Tuccio a comandare portandosi a più due. Una giornata di campionato dunque da vivere fino in fondo e in attesa del pronunciamento della Lega Sicula che sta indagando sui gravi episodi che si sono verificati sabato scorso a Mondello in occasione della partita con la Parmonval, il cui risultato di 1-1 non è stato omologato. La società del Gela, come si ricorderà, ha presentato ricorso contestando su due fronti il risponso della gara che si è disputata sul campo Franco-Lomonaco. All'arrivo della comitiva giolese nei pressi dello stadio della cittadina del litorale palermitano, il pullman sul quale viaggiova il Gela Calcio è stato fatto fermare e, secondo il racconto degli stessi testimoni biancazzurri, alcuni individui con indosso la casacca della Parmonval, uno dei quali armato addirittura di tirapugni, hanno aggredito fisicamente i componenti della comitiva giolese. Una simile accoglienza, secondo quanto riportato nel reclamo presentato dal Gela, avrebbe provocato in alcuni elementi dell'organico biancazzurro, soprattutto i più giovani ed inesperti, dei contraccolpi psicologici di non poco conto rispetto al loro normale rendimento in campo. E poi, cosa di non secondaria importanza, nel parapiglia che si è scatenato durante la colluttazione è sparita la varigetta contenente i documenti dei tesserati biancazzurri. Quando è stata riconsegnata, mancava dei tesserini federali di tre giocatori, Floridi, Aglianizzotto e Pellegrino, i quali sono stati costretti a non scendere in campo e a doversi accomodare per tutta la durata della partita in tribuna. Tornando alla gara di domani, fischio d'inizio previsto alle 15, l'arbitro designato è Ferdinando Emano il Toro della sezione di Catania. Assistenti sono Giuseppe Cernigliaro ed Antone Macca della sezione di Ragusa.